Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi si parlerà della mia skin care routine integrativa, quindi di tutte le maschere che sto utilizzando in questo momento. Voglio fare una piccolissima premessa. Io utilizzo le maschere da circa 8 anni con continuità. Ho imparato quindi ad ascoltare molto bene la mia pelle e a dargli così il nutrimento che mi richiede ogni giorno. Io ho una pelle prevalentemente sensibile che in inverno tende a seccarsi leggermente e in estate come un po' tutte rimane abbastanza mista. Quindi tutte queste maschere che vi mostrerò sono frutto della mia esperienza personale. In questo periodo sto però attuando una skin care molto molto semplice. Quindi non avendo purtroppo tantissimo tempo ho dovuto diminuire drasticamente il numero delle maschere che utilizzo a settimana. Mi hanno portato comunque questa ad avere dei buoni risultati. Infatti la mia pelle adesso risulta essere molto sana, senza imperfezioni e anche abbastanza idratata. Ora vi mostro subito il prodotto che io utilizzo molto molto spesso. Eccolo qua. Allora questo qui è uno scrub labbra agrumato di Biofficina Toscana. Allora questo è un pochino la base del mio trattamento. È il mio preferito da sempre. è un delicato scrub. Io lo mostro all'interno, spero che la luce randa. Quindi uno scrub molto molto delicato per le labbra a base di miele e di oli vegetali. La polvere all'interno con cui viene attuato il nostro scrub è uno zucchero di canna. Quindi ecco io lo utilizzo una volta o anche due a settimana, ma in particolar modo quando più ne sento il bisogno. Prima magari di utilizzare un rossetto o una tinta labbra un po' più secca, oppure quando sento proprio che il freddo, dato appunto dall'esposizione alle intemperie in questo periodo, mi rende un pochino troppo secche, quindi mi forma sulle labbra delle brutte pellicine. Allora questo qui elimina benissimo queste pellicine di cui vi ho parlato. L'unico avviso che posso fare su questa specifica confezione è il fatto che all'interno trovo la presenza di oli in quantità maggiore rispetto alle confezioni precedenti che ho acquistato. Questo cosa fa sì che una volta applicato sulle labbra l'applicazione diventa un po' più difficoltosa proprio perché molto spesso capita che il prodotto non venga attecchito benissimo sulle labbra, però comunque è un mio preferito da sempre e io lo utilizzo sempre moltissimo, lo utilizzerò per sempre perché mi piace tanto. Poi ho da mostrarvi questa maschera, questa qui è la maschera peel off con acido glicolico ed estratti di frutta di bottega verde. Io allora ho un rapporto un pochino contrastante con i peel off ma ho voluto dare comunque una possibilità a questa maschera. Questo inverno sto utilizzando tantissimi prodotti a base di acido glicolico per illuminare il viso e schiarire le mie piccole macchie postume dall'esposizione solare di quest'estate. Io questa la utilizzo già da un po' e la utilizzo sempre una volta a settimana, però ecco che dire, non penso che faccia un effetto schiarente, in particolar modo sulle piccole macchialine che ho diciamo sopra gli zigomi, però ecco con il risultato che ha sulla mia pelle è di una pulizia molto approfondita ovviamente perché essendo comunque una formulazione piuttosto gommosa, una volta che viene rimossa la pelle comunque rimane abbastanza pulita. Non penso che la ricomprerò anche perché un altro punto a sfavore che ho trovato con questa maschera è il fatto di essere molto molto lunga come tempi di asciugatura. Io tante volte mi faccio la maschera durante la doccia, io avendo la vasca perché a casa non ho la doccia, avendo la vasca tendo a farmi il bagno sempre con una maschera sul viso e questa qui purtroppo con i tempi di asciugatura così lunghi a volte mi rende la cosa un po' troppo dispendiosa per il mio tempo, ecco quindi questa non penso di andarla a riacquistare. Poi abbiamo la mia maschera preferitissima di questo periodo che è questa maschera lifting in gel all'estratto di nemmo indiano della Forsan. Questa, come dicevo prima, è la maschera che più di tutte mi ha soddisfatto. È una maschera dalla composizione in gel, eccola qua, sì eccola qui, che va applicata sul viso pulito e va lasciata agire per all'incirca 20 minuti. Grazie all'olio di neem contenuto all'interno la pelle rimane molto liscia e pulita anche. Oltre a questo l'acido iaruronico contenuto al suo interno rivitalizza moltissimo la pelle e la aiuta così ad eliminare l'impurità. Infatti ogni volta che la utilizzo la sensazione che mi lascia è sempre quella di una pelle molto molto idratata e molto pulita, ecco perché per me è la cosa più importante. Poi non c'è skin care routine che si rispetti se non con la presenza di un peeling o comunque di uno scrub. Questo qui è quello che sto utilizzando io, è della Domus Elea Toscana, quindi marca completamente bio. È un peeling maschera anti-age, vis e corpo, levigante, illuminante, anti-rughe. Questo è un po' un passepartout che io ho quasi terminato e che sicuramente riendrò a riacquistare. Questo è un prodotto due in uno che mi è stato regalato diverso tempo fa e da allora lo utilizzo sempre con tanto tanto piacere. È un detergente esfoliante e anche una maschera anti-rughe. Quindi al suo interno troviamo poi l'olio extravergine d'oliva, il burro di karité e l'olio essenziale di rosmarino. I piccoli grani che all'interno fanno sì che avvenga l'azione scrub meccanico sono delle piccole particelle di nocciolo di albicocca. Ecco qua, qui si può vedere molto bene l'azione. Io la utilizzo sempre una volta a settimana e faccio sempre un leggero massaggio sulla pelle, molto spesso la faccio sulla pelle asciutta perché trovo che sia molto più efficace e il risultato dopo 5-10 minuti di posa è davvero meraviglioso. La pelle è illuminatissima e rinfrescata grazie all'olio di rosmarino che si sente tantissimo. Mi lascia sempre un po' la pelle arrossata ma tutto svanisce sempre in pochissimi minuti. Quindi ecco, mi piace davvero tantissimo. E nulla ragazze, io ho già finito perché alla fine i prodotti sono solo e esclusivamente questi, sono pochi ma efficaci e nulla. Fatemi sapere voi che maschere state utilizzando in questo periodo e se vi stanno comunque dando dei benefici sulla vostra pelle, io sicuramente prenderò per oro i vostri consigli. E nulla, io vi mando un grande bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!